Appassionato, esplosivo, competitivo, instancabile. Sono Gennaro Gattuso, ruolo centrocampista, nato a Corigliano Calabro, provincia di Cosenza, Italia. Gattuso è conosciuto in tutto il mondo per la caratteristica della grinta e questo mi fa onore dopo il fatto di non mollare mai la tenacia e la correttezza in campo perché all'inizio non tutti dicevano che ero corretto, invece nel passare del tempo questa è una dote che tutti quanti mi addicono. In una scarpa cerco il fatto di starci bene con il piede e dopo di sbagliare in meno passaggi possibili perché sennò quando la scarpa non è comoda sicuramente il fatto di essere precisi non lo sarei mai. La parte della scarpa che utilizzo di più è il piattone perché secondo me è la parte più facile per calciare e diciamo che dopo un po' di mesi è la parte che si consuma di più, nel senso che usando sempre il piattone è la parte che si consuma di più. Il calcio è diventato da, come dire, i giocatori prima pesavano 70 kg, adesso pesano 80 kg, hanno massa muscolare incredibile, si lavora tantissimo in palestra, si lavora tantissimo sulla velocità e negli ultimi anni la velocità è incrementata, ma anche come incrementato gli scontri fisici, quando vedi due giocatori scontrarsi è come vedere due giocatori di rugby in questo momento. L'obiettivo sempre è stato quello di essere un giocatore più forte con la grinta nel mondo, questo è sempre stato il mio desiderio, nel senso di essere uno di quei giocatori che quando smetti la gente dice quello è stato uno dei più forti, aveva una grinta della Madonna, questo è l'obiettivo.